Uè, non fare il magazzino muffito, da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR, clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE, DAIE! E' un'immagine che ci vediamo, è un'immagine che è importante, un'immagine che ci vediamo inserisci XIUDERONE, da te vediamo, è un'immagine che ci vediamo come si vede Grazie a tutti Grazie a tutti